Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, sono molto triste questa foto che vedete dietro ovviamente non è messa a caso ma è bensì perché qua per gli amanti della BTCC come me soprattutto perché c'è un campionato in corso proprio organizzato da SimDrivers e la notizia, che sto per darvi se non l'avete letta, è veramente di quelle che uno non vorrebbe mai dire soprattutto chi è appassionato di simulazione di guida Motorsport Game ragazzi, non solo licenzia il 40% dalla propria forza lavoro internazionale con i team di Inghilterra e Australia che se ne vanno a casa per cercare di correre ripari per quanto riguarda il disastro economico di Motorsport Game per cercare di recuperare circa 400.000-500.000 dollari senza tener conto delle indennità di fine rapporto eccetera eccetera non so se questa manovra è stata proprio corretta o meno, non lo so e considerando la situazione finanziaria disastrota di Motorsport Game che vi ricordo che è stata quotata in borsa nel gennaio 2021 e che ha praticamente dichiarato una perdita netta di circa 13,2 milioni di dollari in questo primo semestre 2023 rispetto già a una perdita di 23,4 milioni l'anno prima e per un guadagno netto di 3,4 milioni quest'anno rispetto ai 5,3 dell'anno precedente quindi senza considerare una liquidità di soli 1,4 milioni di dollari quest'ultimo 31 luglio il licenziamento di questo 40% della sua forza lavoro e oltretutto vende una delle sue licenze principali NASCAR, la licenza NASCAR ad iRacing ragazzi cioè cedere una licenza di questa importanza qui diventa veramente qualcosa di molto preoccupante parliamoci chiaro ragazzi è inutile che diciamo ma si andrà tutto bene no, non credo proprio oltre a questo ragazzi io non so se eravate al corrente ma doveva uscire da parte di Motorsport Game nel maggio del 2022 il gioco dedicato al BTCC che è stato rinviato poi successivamente al 2024 stiamo parlando quindi di una licenza di fondamentale importanza per quanto riguarda il gruppo perché questa BTCC è legata anche ad RFactor 2 ragazzi e tocca, denuncia violazioni fondamentali cioè vi leggo proprio il passaggio a Motorsport Game è stata data sufficiente libertà per porre rimedio a queste violazioni contrattuali ma sfortunatamente non lo ha fatto quindi il gioco che deve essere rilasciato nel 2022 è stato posticipato al 2024 oltretutto tocca sicuramente gli ha detto oh ciccia devi uscire con questo gioco e Motorsport non ci riesce e quindi gli tolgono anche questa licenza il problema è che negli store di Steam sotto RFactor 2 ok, molto probabilmente toglieranno ok, il pack BTCC e tutto quello che ne consegue quindi ogni singola auto tranne per chi l'ha già acquistate vedere tolte le BTCC da RFactor 2 è una cosa mai vista che tolgono cioè mi sembra molto strano cioè fa veramente strano ora ovviamente normalmente c'è l'iminetta uscita di Le Mans ultimamente speriamo ragazzi da 24 ore di Le Mans nella speranza che non perdano anche questa licenza perché se no ti saluto e tutti gli sforzi che stanno che hanno fatto fino adesso anche per le migliorie di RFactor 2 chissà come andrà a finire perché vi ricordo che Studio 397 è legato a Motorsport Game che in ogni caso sta andando in modo molto indipendente avanti anzi si vedono proprio gli sviluppi quindi nella speranza veramente che non sia un qualcosa di disastroso per quelli che sono almeno i titoli attuali però onestamente ragazzi vi dico una cosa vedere questa schermata qui ragazzi è un tonfo al cuore cioè ragazzi stava per uscire un gioco dedicato alle BTCC io non so se siete fan appassionati a me fanno impazzire ragazzi queste macchine qua e sapere che purtroppo non uscirà comunque nel 2024 non so se starà un altro sviluppatore però immaginate uno sviluppatore come Studio 397 che è affiliato a Motorsport Game questa è la mia supposizione che vi faccia un gioco di questo livello qua è fantastico chissà se non la prenderà iRacing non lo so chi ha la possibilità di poter recuperare questo BTCC sono veramente molto amareggiato ragazzi perché molestamente lo aspettavo io questo gioco ma io lo faccio davanti a voi e una mail la metto se questo video triste vi è piaciuto lasciate un pollice in su non esitate a lasciare un commento ditemi cosa ne pensate e come dice la pagina dietro di me grazie per avermi seguito ci vediamo prestissimo da Fabrizio è tutto un abbraccio ciao